Bene, io e Ivan alla stragrande, una favola. Ci dispiace molto vedere anche te sprovvisto di dolce vita o di collo alto, penso che è un po' come... Abbiamo un po' scherzato stasera. Sull'outfit, esatto. Lui è più elegante, visto che amministra, lui è più elegante. Ebbè, da che partiamo? Ma Michele ci aggiorni e ci dai qualche info in più sulla trattativa delle ultime ore, che è sulla via della conclusione, ossia Zagnolo ha il Galatasaray, il giocatore già a Istanbul. Ci dici qualcosa in più sulle cifre di questo affare? Sì, Zagnolo effettuerà le visite mediche con il Galatasaray nelle prossime ore. Come abbiamo raccontato, nelle ultime ore è stato trovato l'accordo tra i due club, tra il club e il giocatore. Zagnolo firmerà un contratto fino al 2027, guadagnerà circa 3 milioni e mezzo a stagione o poco più. E soprattutto è interessante andare a scoprire quelle che sono le cifre, perché è un accordo piuttosto particolare, su una base fissa di 15 milioni. Zagnolo passerà dalla Roma al Galatasaray. E c'è una parte di bonus variabile, facilmente raggiungibili, per arrivare a quella quota di 23 che era stata stabilita dalla Roma. Questo perché? Perché la Roma, l'Inter, anzi, vanta un 15% sulla rivendita di Zagnolo. In questo modo la Roma andrebbe a riconoscere un indennizio minore ai nero-azzurri. Dunque queste sono le cifre. Zagnolo nelle prossime ore verrà ufficializzato dal club. Un'altra cosa molto interessante da dire è che c'è una clausola fissata per liberare il giocatore all'inizio a 35 milioni, ma è progressivamente riducibile negli anni successivi. Michele, secondo te la Roma si aspettava di poter, passatemi il termine, piazzare Zagnolo in questi primi giorni di febbraio? Nel senso che, finito il mercato di gennaio, restando aperto quello turco per appunto 10 giorni, 8 circa, si pensava che grandi possibilità che il giocatore partisse adesso fossero abbassate notevolmente e che si sarebbe dovuto aspettare poi la sessione estiva per vedere poi Zagnolo indossare altre maglie. È stata una sorpresa, secondo te, questa trattativa di inizio febbraio oppure c'era qualcosa già intavolato prima? Sorpresa sì e no, nel senso che nelle ultime ore della finestra di mercato invernale per quanto riguarda l'Italia, club turchi si erano fatti avanti. C'era stato un primo sondaggio proprio del Galatasaray, qualche sondaggio anche del Fenerbace, poi la cosa si era fermata lì. Tant'è che successivamente erano anche arrivate le scuse di Zagnolo quasi a volersi riappacificare con l'ambiente Roma in vista di cinque mesi comunque da dover passare a Trigoria e successivamente invece è arrivato l'affondo decisivo. Ricordiamo che il mercato turco chiude l'8 febbraio, quindi domani, c'era più o meno una settimana in più, è stata questa decisiva per permettere al Galatasaray di trovare l'accordo con i giallorossi. Allora, intanto, prima di passare alla prossima questione mercato, è arrivata una notizia su Miretti, si tratta, stanno un po' scrivendo tutti i vari giornali, si tratta di una distorsione alla caviglia da valutare nelle prossime ore. Quindi distorsione caviglia, intanto non dovrebbe essere niente di particolarmente grave, proviamo chiaramente a capire qualcosa di più, però insomma, quello è. Di caviglia si tratta di una distorsione. Che cosa ti chiedo personalmente, Michele? Volevo chiederti per quanto riguarda due elementi molto importanti delle milanesi. Uno è Lautaro Martinez e l'altro è Raffaeleau. Si continua, immagino, a parlare chiaramente di rinnovo per quanto riguarda il portoghese, quindi ti chiedo se la situazione nel frattempo ha subito evoluzioni, ulteriori rallentamenti, come sta in questo momento il caso Leao, alla luce anche di quello che abbiamo visto e stiamo vedendo sul campo anche delle scelte forti di Stefano Pioli e Lautaro Martinez. Si discute molto del valore di Lautaro, qualcuno dice 100 milioni di euro, ricordiamoci ancora l'offerta che fece il Barcellona, più o meno, credo, conferma, intorno agli 80. Ti aspetti che Lautaro possa diventare un nuovo mercato in estate? Allora, partiamo intanto da Leao, la prima domanda. Al momento la trattativa per il rinnovo è in una fase di stallo, anche perché il Milan sta vivendo un momento nero sostanzialmente e anche il giocatore non se la sta passando benissimo, è stato escluso nelle ultime due gare, quindi al momento resta una situazione piuttosto interlocutoria. Il Milan resta fermo sulla sua posizione, ha offerto 7 milioni alleao per il rinnovo di contratto, ci sono discorsi ovviamente sempre relativi al nodo della pendenza con lo Sporting Lisbona di circa 19 milioni di euro che Leao dovrebbe versare per il passaggio a Lille avvenuto nel 2018, quindi al momento è tutto fermo sul fronte rinnovo Leao, anche perché Maldini e Massara si aspettavano di chiudere questa situazione a gennaio e evidentemente non è stato possibile, temo che si allungheranno un pochino i tempi in questo senso. Per quanto riguarda Lautaro mi aspetto che possa diventare un nuovo mercato, mi aspetto allo stesso tempo resistenze da parte dell'Inter, che chiaramente dopo l'addio ormai conclamato di Skriniar, che avverrà in estate, vorrebbe fare di Lautaro Martinez il capitano del nuovo corso. Certo è che se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni, magari dalla Spagna, e spesso si è parlato di club interessati a Lautaro Martinez in Liga, sarebbe difficile per il presidente Zhang rinunciare. L'Inter dovrà fare cassa nei prossimi mesi, entro giugno dovrà effettuare una cessione, io mi aspetto che possa essere quella di Dumfries, soprattutto in direzione Premier League però. Secondo me potrebbero addirittura essere due, perché poi se arriva un'offerta per Gosens, visto che in Zaghi non è che non gli ha concesso tanto spazio, potrebbe magari pensare di cederli entrambi. Io Michele volevo chiederti a proposito di Inter, a che punto siamo? Con il rinnovo di De Frai, perché a questo punto l'Inter deve costruire la difesa dell'anno prossimo ma soltanto bastoni, considerando i difensori centrali. E poi voglio chiederti il futuro di Aslani, se sarà ancora in nerazzurro, immagino di sì, ma vorrei capire se ci sono novità sul riscatto, sull'operazione portata avanti già quest'estate con l'Empoli che verrà concretizzata con il riscatto. E dato che ci siamo anche su Raul Bellanova, che è un altro ragazzo che l'Inter ha preso, se non sbaglio, in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari, e ad oggi non si parla, credo, di un riscatto per lui. Non è che abbia avuto troppe occasioni per far vedere il suo potenziale quest'anno. Sì, esattamente. Bellanova ha avuto poche occasioni, in quelle occasioni non è riuscito ad incidere, soprattutto a dimostrare quelle che sono le sue caratteristiche. Quindi, in questo senso, le prospettive sono piuttosto negative per quanto riguarda il riscatto. Andando invece alle altre due questioni, partiamo da quella del rinnovo di De Frai, che è una questione che sta molto a cuore all'Inter. È stato proposto al giocatore un rinnovo biennale, confermando sostanzialmente l'ingaggio attuale, intorno ai 4 milioni annui. I nerazzurri si aspettano una risposta nei prossimi dieci giorni. C'è una sorta di ultimatum, anche perché De Frai sta valutando il suo futuro, in relazione a quelle che sono le prospettive di un altro giocatore in nerazzurro, che è Acerbi. Condividono lo stesso procuratore, che è Federico Pastorello, e Inzaghi è molto contento, ovviamente, sia del rendimento di De Frai, che del rendimento di Acerbi. In questo senso, possono essere di certo legate le due operazioni. Ricordiamo, Acerbi è in prestito all'Inter, De Frai è invece in scadenza. Quindi sono due operazioni più o meno legate. Per quanto riguarda Aslani, la notizia è che è scattato l'obbligo di riscatto dopo il derby. C'era una clausola particolare che prevedeva l'obbligo di riscatto al primo punto guadagnato dall'Inter a partire dal mese di febbraio. Una clausola anche particolare, quindi dopo il prestito iniziale di quattro mesi, l'Inter eserciterà il riscatto, versando altri 10 milioni nelle casse dell'Empoli. L'operazione complessiva, però, è di 16 milioni. Si attesta sui 16 milioni, perché ci sono 2 milioni di bonus variabili. Michele, invece, sempre appunto parlando di rinnovi, in casa Juve si sta lavorando a quello di Danilo, ci sono novità? Nel frattempo Bart, scusami, ma ha fatto il 3-0 Vlaovic. Così, per aggiornarvi sul match della Rechi, assist delizioso di Fagioli con l'esterno destro, Vlaovic davanti a Ochoa non sbaglia. 0-3. Buona notizia, forse, per qualche fantallenatore. Sì, allora, tornando al rinnovo di Danilo, è di sicuro quello già apparecchiato in casa Juventus. Da diversi mesi c'è un accordo di base per confermare con un biennale quelle che sono le cifre attuali. Ovviamente la vicenda ha visto un rallentamento importante a causa di quelle che sono le altre questioni extracampo della Juventus. Juventus che però conta di chiudere questa pratica già nelle prossime settimane. Comunque, nel mese di marzo potrebbe essere quello buono per definire la vicenda Danilo, che tra l'altro è uno dei giocatori quasi insostituibili di Allegri e ha giocato anche in più posizioni. Tra l'altro, diventato anche in questi ultimi anni difficile, o meglio, più difficile rispetto agli scorsi della Juve, diventato veramente un punto fondamentale di questa squadra. Così come lo è Milinkovic-Savic per la Lazio. Sul suo futuro, in ottica estate, cosa ci racconti Michele? C'è quant'è la possibilità che possa rinnovare ancora con la Lazio, restare alla Lazio e le sirene di altri club si faranno avanti, si faranno sentire quest'estate? Allora, le possibilità di un rinnovo con la Lazio ci sono. Milinkovic ha un contratto che scade con i Bianco Celesti nel 2024. Visto anche l'affetto nei confronti di una società che comunque lo ha portato ad alti livelli, ha chiarito al presidente Lotito che non lascerà il club a zero, quindi eventualmente decidesse di partire lo farà con cognizioni di causa e soprattutto permettendo al club di incassare una cifra importante. La valutazione che ne fa proprio il presidente Lotito è di una sessantina di milioni, più o meno la solita, che potrebbe essere versata da club soprattutto in Inghilterra, perché c'è l'Arsenal che da sempre lo tiene d'occhio, e poi c'è il Newcastle che magari con una qualificazione in Champions League potrebbe tentare l'assalto già in estate. In ogni caso Tare nelle prossime settimane incontrerà l'agente di Milinkovic Savic, Mateja Kedsman, per discutere il rinnovo di contratto, eventualmente la Lazio ha tutto il piacere anche per i propri tifosi di trattenere Milinkovic a Roma, che è un po' il simbolo del progetto bianco celeste, dipenderà tutto dalla volontà del giocatore e di misurarsi o meno con palcoscenici magari più importanti. Allora, faccio due nomi. Direi il primo di questi in ambiente Milan abbastanza deludente, nel senso che ci aspettavamo dopo le prime partite un'ulteriore esplosione, perché mi ricordo le prime due partite, di De Ketelare non erano state bruttissime. No, no, assolutamente. Cosa si deve aspettare il tifoso del Milan da De Ketelare? Dal futuro di questo ragazzo? Poi magari nei prossimi tre mesi, le prossime settimane in generale, troverà spazio in campo e esplode per davvero. Però insomma, qual è ad oggi un futuro ipotizzabile per De Ketelare? E aggiungo, spostandoci invece sulla Roma, un'ulteriore evoluzione invece che riguarda Vijnaldum, che da quello che abbiamo capito, no, e confermaci tu, la Roma vorrebbe trattenerlo, però bisogna vedere se ci sono delle condizioni magari da rivedere anche con il Paris Saint-Germain. Allora, per quanto riguarda Vijnaldum, sì, la Roma ha tutta l'intenzione di trattenerlo, tornerà dall'infortunio e chiaramente sono valutazioni che il club farà anche nelle prossime settimane, magari discutendone con il giocatore e con il club francese. Per quanto riguarda De Ketelare, di sicuro resterà al Milan anche nella prossima stagione. Il mercato rosso-nero è stato fin qui deludente, sotto diversi aspetti, però è l'investimento principale, quello fatto per il trequartista ex Bruges, quindi Maldini e Massara ci puntano forte, puntano molto sul suo talento, sperano magari come è già successo con Tonali, oppure con lo stesso Raffa Leao che nella seconda stagione possa iniziare a mostrare quelle che sono le sue caratteristiche che appunto hanno convinto il club a riportarlo a Milano. Quindi penso che quasi certamente, perché le certezze ovviamente nel mercato non esistono mai, diamo un 99% possa restare anche nella prossima stagione. Va bene Michele, grazie mille, come sempre. Grazie a voi ragazzi, buon proseguimento. Grazie mille per questo. Ciao Michele e agli amici di calciomercato.com, si potrebbe parlare sempre di mercato. Sì, secondo me ne parleremo tantissimo, più avanti. Loro ci sono tutti i giorni, e lo ricordo la nostra community, sia nello spazio pomeridiano che in quello serale. Dicevo, con la Juventus, col caso Juve, con quello che succederà fuori dal campo, beh secondo me in estate ne dovremo parlare tantissimo. Sì, detto che sì, beh è chiaro, d'estate parliamo sempre tanto di mercato. Bisogna capire come evolve la cosa lato Juve. Io continuo sempre a guardare questa classifica della Juventus, no? E la Juve risponde in maniera molto forte. Abbiamo ascoltato e letto tutti la risposta della Juve alle motivazioni. Poi della procura dice, noi siamo molto convinti, abbiamo le nostre motivazioni e faremo ricorso. e credo sempre che nel caso in cui la Juventus dovesse riuscire a trovare attraverso la sua difesa il famoso vizio di forma e riavere i famosi 15 punti, in una ipotesi, da quello che stiamo cercando di capire, complessa, complicata, però bisogna sempre dire, sta giocando queste partite con un meno 15. Adesso, grande prova questa sera, Salerno ha 52-30, 3-0. Però non è scontato, no? Comunque che la Juve stia continuando a giocare in questo modo, perdendo e poi comunque risorgendo. Abbiamo visto anche poi il 3-3, famoso con l'Atalanta al giorno, tra l'altro, le ore del meno 15. Qualcuno potrebbe dire, punta tutto alla Coppa Italia, perché attraverso la Coppa Italia vai, ti prendi un posto in Europa League, se proprio devi scontare il famoso anno nel caso in cui la UEFA dovesse intervenire e bloccarsi...